La giornata mondiale del diabete è considerata tra le più grandi manifestazioni di volontariato in campo sanitario. Si svolge in circa 500 città italiane, coinvolti medici, infermieri e membri di associazioni per offrire gratuitamente il proprio contributo. Oggi in Campania, per quanto riguarda l'obesità infantile o giovanile, stiamo ai primi posti. E tra i ragazzi tra i 13 e i 16 anni abbiamo una prevalenza che se non è la prima o la seconda in Italia. Allora se noi non incominciamo ad intervenire agendo sulla prevenzione, sicuramente negli anni futuri avremo delle grosse problematiche, anche maggiori di queste. Attenzione rivolta anche agli animali. Eh sì, il diabete, non tutti lo sanno, rappresenta una delle malattie più frequenti sia nel cane che nel gatto. Soprattutto cani anziani dai 7-8 anni sono soggetti a diabete. Naturalmente anche le razze incidono molto sulla malattia e mentre per il gatto non è il diabete di tipo 1 come può essere per i cani, ma è il diabete di tipo 2 che è un problema tipicamente alimentare. E mi fa piacere che ad Ariano Irpino si parli anche di tutela e benessere degli animali. Considerate che la città è molto sensibile a queste problematiche.